Puttana che sperito, ma si può, questo è incredibile Oh madonna, ma il nostro è entrato, ma il nostro è entrato No, il nostro... Si fa molta gente qua che mi ha capito di vedere il nostro gruppo Ok E la prima ce l'ha spostata in un altro... che sono salito E l'altro sono loro Si, altri sono loro Sì, sono loro Madonna Madonna, madonna, ma dove c'è qui che sta? Io pensavo di andare in chiedote perché c'era la luce in mezzo Pensavo di... Oh Ciao, tu che ero andato Madonna, chiaro che... Madonna, che storia Here, vedo... I un nuovo pezzo Come si, ma cazzo, da's giusto Quindi da dentro bisogno di assi No, 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 no.